È molto, molto carina, è un tipo dolce. Ci siamo conosciuti qualche giorno fa e mi ha chiesto di uscire e ci siamo abbacciati. Quanti anni ha? 27. Che cosa? Sono una coppia fantastica. Mi fa venire voglia di fare cose che non ho mai voluto fare prima. Ho capito. Lei è la sua psicologa. L'unica cosa da fare è analizzare il caso. Con Uma Thurman, Mary Strip, Prime. È il mio figlio. Chi? Per il ciclo battibecchi d'amore? Prime, venerdì in prima serata, sulla 5.